7,5 kg di marijuana, tutto il materiale per il confezionamento della droga e 2.000 euro in contanti. È quanto sequestrato all'alba di venerdì dai militari dell'arma, nel corso di un semplice controllo a serriate. Un 28enne albanese è stato così arrestato. Nell'auto dell'uomo, infatti, i carabinieri di Bergamo hanno rinvenuto 4 dosi di cocaina. Le forze dell'ordine hanno poi proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'albanese a Colognola. Nel box hanno rinvenuto pacchi di marijuana, 50 g di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 2.000 euro in contanti. L'operazione conferma ancora una volta il grande lavoro dell'arma alla lotta alla droga e alla criminalità. L'attività è sicuramente sempre in continua crescita, nel senso che il nostro è un intervento sul territorio sempre molto presente e cerchiamo sempre di migliorare con una presenza sempre più ossidua. Quindi anche i nostri risultati sono estremamente positivi anche quest'anno, quindi abbiamo un'ottima situazione di crescita. Io mi sento di poter dire che la nostra attenzione continua e continua ad essere sempre massima. Con una particolarissima attenzione a quella che è la prevenzione dei reati più gravi, al contrasto dei momenti più gravi di criminalità. Mi riferisco soprattutto a quella che è la criminalità di natura predatoria, quindi ai furti e alle rapine che avvengono sul territorio. Quindi per noi è veramente una missione, la nostra, continuare a impegnarci al massimo per garantire la sicurezza. Grazie a tutti.